io vi posso dire una cosa quegli infissi gli ho visti beh infissi così li fanno solo su marte qualcosa di fantastico straordinario quindi infissi defer cambiateli se sono vecchi decreti a pezzi cambiateli immediatamente con gli infissi defer grazie a loro infissi defer e caro mauro forse con gli infissi defer potremmo blindare un po' meglio la porta infatti ti volevo fare una domanda a proposito di infissi defer potrebbero servire gli infissi defer a questa Lazio solo gli infissi defer con questa difesa sarebbero davvero soltanto gli infissi domenica per giunta